Dopo dieci anni di chiusura la città di Alghero entro l'estate potrà riavere a disposizione un fondamentale spazio per ospitare i grandi eventi. Si tratta dell'area esterna del Palazzo dei Congressi di Maria Pia che sarà recuperata grazie a un finanziamento regionale da 1.600.000 euro. L'amministrazione catalana guidata dal sindaco Mario Conoci ha firmato il contratto con l'impresa che si è aggiudicata all'appalto, la On Technology di Porto Torres, che dovrebbe concludere i lavori entro la fine del mese di luglio. In questo modo si potranno nuovamente organizzare eventi di grande richiamo come è da tradizione nella città catalana. Nell'affiteatro, capace di ospitare circa 7.500 spettatori, nel corso degli anni si sono esibiti infatti artisti del calibro di Franco Battiato, Pino Daniele e Lucio Dalla, solo per citarne alcuni. E nel periodo dal 2002 al 2011 è stata la sede del Festival Alghero, spesso apripista di eventi nazionali. Riprendiamo un discorso molto proficuo e interrotto nel 2011, ha sottolineato Conoci, e anche l'ex primo cittadino Marco Teddi ha espresso soddisfazione per il fatto che finalmente il progetto veda la luce. Le risorse, ha ricordato, arrivano da un'iniziativa legislativa del novembre 2019. L'importo delle opere fa parte di uno stanziamento complessivo da 3 milioni predisposto nel marzo 2020 dall'assessorato regionale agli enti locali e permetterà di ripristinare i 54.000 metri quadrati esterni alla struttura, che ospitano anfiteatro, area parcheggi, area verde e strutture sportivo-ricreative.